Non c'è una quota Poggiani, non c'è una quota Poggiani, non se ne voglia nessuno, ma io ho scelto Laura e Monica che ho qui al mio fianco per le loro storie. Poi a meno sfugge che sono storie personali, che sono storie collettive, che vengono da esperienze, ma non esistono quote. Anzi semmai ce l'ho tolta la quota Poggiani, perché Poggiani non ha più un assessore di valore. Quindi questa è la prima parte della risposta, la seconda parte... Mi chiedevo se lui poteva essere voluto... Ah ecco, invece mi sembra anche quella una domanda che inizio a sentire nelle mie orecchie da un po' e sulla quale ci dobbiamo cominciare a confrontare sempre di più, perché è chiaro che non puoi scegliere nel momento in cui stanno sul tavolo anche le regionali, non puoi far passare troppo tempo per scegliere anche il candidato al comune. Credo che viaggeranno insieme come tempi, nel momento in cui dovessi sciogliere definitivamente la riserva di candidarmi a Palazzo Santa Lucia, contestualmente dobbiamo avere il candidato a Palazzo San Giacomo. Credo che le aspirazioni sono tante, mi sento di dire, non voglio che ci rimanga male, che escluderei che l'attuale vice sindaco possa essere un candidato al comune, perché non riesco a immaginare un candidato sindaco che non parli la lingua napoletana. E quindi questo secondo me è anche un elemento che toglie un po' di legittima tensione, tensione però positiva, non tensione come il veleno che abbiamo letto questi giorni, tensione di competizione, perché so perfettamente che anche all'interno della Giunta c'è più di un assessore che vorrebbe legittimamente candidarsi a sindaco, come ce ne sono altri fuori, come può essere anche un presidente di qualche municipalità. sceglieremo insieme, è chiaro che immagino che un po' l'ultima parola aspetta anche a chi ha governato Napoli per dieci anni e che viene riconosciuto e di questo ne sono onorato e onerato il capo della coalizione politica. Credo che nelle prossime settimane questo sarà sicuramente uno degli elementi anche di nostra riflessione, la scelta del candidato a sindaco per il prossimo quinquennio.